We have very stupid people. We have stupid leadership. How stupid are our leaders? Piccolo scarafaggio ignorante. Io boffongo quanto me pare piace, siamo in democrazia. E poi come è il principio cardine dei santi spessatamente, fatti i cazzetoli. Tra le quasi 7000 lingue parlate ad oggi nel mondo, difficilmente si rintracciano idiomi che non esibiscono un repertorio di espressioni, specificamente deputate, a svolgere una particolare infunzione, insultare gli altri. Prendi il numero di targa di quella macchina. Sì, signor. Dobbiamo eliminarlo a quel figlio di puttana. Che nella lingua parlata si stia osservando un significativo aumento nella frequenza d'uso di espressioni ingiuriose, è tutto da dimostrare. Gli esseri umani si insultano, da sempre. Sarebbe ingenuo guardare al passato con nostalgia, rimpiangendo un piccolo mondo antico in cui le conversazioni erano scandite da ossequi e complimenti. Eppure abbiamo tutti la netta sensazione di vivere in un'epoca in cui insulti e offese piovono da tutte le parti. Per quale motivo possiamo ritenerci abitanti dell'era d'oro dell'ingiuria? I motivi sono due. Il primo risiede nel ruolo strategico che le espressioni di insulto hanno iniziato a giocare da qualche anno a questa parte nella cornice della discussione politica e del confronto politico. Il turpiloquio all'interno della campagna presidenziale del 2020 ha avuto un ruolo fondamentale soprattutto per quanto riguarda la campagna elettorale del presidente Donald Trump. Su questo tipo di linguaggio Trump ha costruito tutta la sua presidenza perché addirittura nel 2011, quando ancora poi alla fine non si candidò contro Barack Obama, faceva parte del movimento Birder, cioè di chi diceva che in realtà Barack Obama non aveva diritto di essere presidente perché non era veramente americano. Per cui tutto questo attacco nei confronti degli avversari, nei confronti anche delle donne, durante la presidenza, attaccò le deputate chiamate The Squad nel 2019, di cui diciamo la più importante e più conosciuta è Alexandria Ocasio-Cortez. Oggi più che mai un'espressione di insulto è uno strumento di delegittimazione dell'altro e di attivazione di processi di costruzione del consenso e del dissenso. Il fatto che Trump abbia attaccato apertamente le persone di religione islamica oppure che abbia parlato del coronavirus come del Chinese virus più volte incoraggia un certo tipo di elettore di estrema destra a sentirsi autorizzato a utilizzare qualsiasi tipo di linguaggio nei confronti di chi reputa inferiore. Un insulto pronunciato entro la cornice dei social sottopone al pubblico ludibrio. I social straripano di trolls e haters, membri delle comunità che o per puro divertimento o forti dell'anonimato si abbandonano a raffiche di schermi e insulti e in tal senso i social media costituiscono un terreno particolarmente fertile per il proliferare del linguaggio denigratorio. Gli esempi di gogne mediatiche spesso sia di destra sia di sinistra sono all'ordine del giorno e sotto gli occhi di tutti e non è un caso che lo sforzo intrapreso dalle grandi multinazionali dei social media come Facebook, Twitter e Google in primis è indirizzato esattamente verso la tentativa di sviluppare delle tecniche di individuazione e isolamento delle forme di linguaggio d'odio.